Taglio del nastro per casa tennis. Palazzo Madama ospita un ricco calendario di eventi collaterali all'Enitto ATP Finance, in programma dal 13 al 20 novembre a Torino. All'evento inaugurale gli assessori regionali allo sport Fabrizio Ricca e all'agricoltura e cibo Marco Protopapa, insieme alle istituzioni cittadine. Poi spazia il grande protagonista, il tennis. Una partita tra le campionesse Flavia Pennette e Francesco Schiavone ha fatto sognare il pubblico. E poi un appassionato doppio ha visto scendere in campo l'assessore regionale Ricca e il sindaco di Torino Stefano Lorusso. Casa Tennis aprirà le sue sale tutte le mattine dalle 10 con la rassegna stampa con news, approfondimenti e ospiti speciali sul mondo dell'Enitto ATP Finals. Al pomeriggio il formato Torino si presenta con incontri, dibatti e approfondimenti con ospiti, sportivi, personalità della società civile e istituzionale. Nel tardo pomeriggio il Salotto Parole di Tennis accoglierà scrittori, personalità e sportivi. In programma anche degustazioni guidate realizzate dalla Regione Piemonte con Visit Piemonte e le agenzie turistiche locali e dalla Camera di Commercio di Torino. Siamo diventati la capitale mondiale del tennis, siamo convinti di poter fare un'edizione spettacolare e di poter guardare avanti per i prossimi anni e vogliamo lavorare per convincere ATP, con cui il presidente Gaudenzi è qui a Torino con noi, che si può andare avanti oltre i 5 anni che in questo momento sono assegnati. Il nostro obiettivo è che ATP Finals possa rimanere a Torino almeno 10 anni così come successe a Londra. Lo sport e il turismo si stanno sempre di più avvicinando all'agricoltura, alla nostra enogastronomia, anche perché piace sempre di più ai nostri turisti, piace sempre di più essere apprezzata e scoperta e quindi in momenti come oggi, anzi tutta la settimana che ci porterà davanti a conoscere la grande città di Torino e il nostro Piemonte, la nostra enogastronomia farà da padrone. Quindi siamo veramente contenti e ovviamente invitiamo tutti a venirci a trovare.